Allora, oggi nuovamente in bianco e nero, un po' perché voglio ritornare brevemente sulla questione del film della Cortellesi, un po' anche per un leggero omaggio alle atmosfere claustrofobiche del film di cui voglio parlare. Poi questa volta sono in orizzontale, voglio sperimentare un pochino meglio questo tipo di inquadratura perché potrebbe andare bene, insomma. Allora, iniziamo direttamente. Per quanto riguarda la Cortellesi, io resto fermo sulle mie idee, sui miei giudizi, e lo ritengo assolutamente un buon film, un film da andare a vedere, però in questi giorni, in queste settimane, ho letto e ascoltato cose che sono troppo, troppo esagerate. Capolavoro è una parola stra-abusata per questo film, per me non è neanche lontanamente un capolavoro, sebbene sia, ripeto, un buon film, forse anche ottimo, se mi cadessero, insomma, alcune remore che ancora ho, alcuni dubbi, però va bene, non è questo il punto. Ma un'altra cosa, per esempio, che trovo proprio fuori ogni realismo è il fatto che sia stato definito anche un film coraggioso. Allora, fare un film del genere, dal punto di vista produttivo, per la scelta del bianco e nero, quello è l'unico coraggio che io posso ritrovare in quel film, ma per tutto il resto no. Siamo nel 2023, di quelle cose si è parlato centinaia di volte, magari molto spesso peggio, in maniera banale, eccetera, eccetera, e non è questo il caso, perché veramente è stato fatto un bel lavoro, sceneggiatura, regia, attore e quant'altro. Quindi sicuramente, ma coraggioso, mio Dio, sarebbe stato molto, ma molto, ma molto più coraggioso parlare delle stesse cose ambientate oggi, di quello che succede oggi, perché oggi purtroppo accadono in maniera magari leggermente diversa, ma le stesse cose, quando non ovviamente peggio. Non che i femminicidi non ci fossero pure all'epoca, anzi, purtroppo già c'erano, ma anche attualmente, no? Come tutti purtroppo ben sappiamo, anche dalla storia della... Oddio, non saprei come definirla, perché definirla povera mi sembra sminuirla, perché lei, da quello che ho visto, mi sembrava una ragazza molto ricca, però tragicamente sfortunata, ma non è neanche sfortuna, non lo so, non saprei come dire. Comunque, della ricca d'animo Giulia, che però ha avuto una fine tremenda. Comunque, al di là di questo, se fosse stato ambientato oggigiorno, probabilmente sarebbe stato più coraggioso, nonostante fortunatamente anche oggi già si possa parlare di questi temi, della violenza sulle donne, e si debba parlare, e se ne debba parlare sempre di più. Detto questo, voglio passare brevemente ad un altro film, che non c'entra con quello di cui voglio parlare, però mi fa da emblema per una questione. Molto spesso si pensa che avere i migliori budget, avere i migliori sceneggiatori, avere i migliori registi, avere i migliori attori, porti necessariamente ad avere uno dei più grandi film di quel momento, degli ultimi anni, eccetera, eccetera. Cosa che invece, fortunatamente io dico, non è così. Perché c'è qualcosa anche nell'artigianato, ma poi soprattutto quando vuole essere arte, che è imponderabile, e che si riesce ad arrivare ad altissimo artigianato o all'arte, non attraverso ciò che hai materialmente, o tecnicamente, ma attraverso altro, che qualcuno può chiamare cuore, qualcuno può chiamare anima, qualcuno può chiamare sentimenti, non lo so. Ci sono diverse modalità per definirle. L'emblema di questa situazione è il film The Killer, di un regista straordinario, uno dei più grandi registi, anche dal punto di vista tecnico, degli ultimi, non so, vent'anni, che è David Fincher, no? Zodiac, film meraviglioso, Seven, spartiacque del cinema mondiale, ma così anche altri film. Lui è bravissimo, bravissimo in tutto. Penso che sia maniacale nella preparazione e nella realizzazione dei film. Lui è ovviamente i suoi datori, la sua troupe, eccetera, eccetera. Ebbene, The Killer ha un'ottima costruzione, una regia sempre efficace, un attore molto, molto bravo, e tra l'altro anche in questo ruolo è molto, molto brava e efficace. Già sulla sceneggiatura io non concordo sia una grande sceneggiatura, però comunque sicuramente sarà stata preparata nei minimi dettagli. Eppure il film, personalmente, lo reputo di una noia mortale, ma proprio mortale. E va al di là del fatto che ti debba spiegare la vita del protagonista, che è un killer di professione e quindi fa una vita tediosa. Noiosissima all'estremo proprio. Perché è così? Perché bisogna prepararsi per fare quelle cose, aspettare anche magari due, tre, quattro giorni, come tra l'altro fa vedere anche il film. Ma va al di là di questo. È un film brutto, proprio brutto. Nel senso che io l'ho visto e avrei potuto non vedertelo. Uno, anche per non abbassare la considerazione che ho di Fincher, che, come ho detto, è sicuramente più che buona, anzi ottima in alcuni casi. Ebbene, questo film non ha alcuna emozione e va bene che deve sempre rispettare un pochino ciò che prova il protagonista. Ok, concordo su questo. Però non ha proprio alcun sentimento. Niente. La preparazione dell'assassino prima, dell'omicidio, è, non so, disarmante per me, ma disarmante in senso negativo. Tutto il susseguissile delle vicende, poi, è di una banalità estrema. Un visto e rivisto, non so, centinaia di volte. Una fine, già, non lo so. Io già me l'aspettavo dal secondo capitolo, perché è diviso in capitoli. Già me l'aspettavo dal secondo capitolo, come andasse a finire. Lo svolgimento di tutti gli omicidi per vendetta è assolutamente di una noia, di una banalità enorme. Poi il fatto che lui ripeta sempre le stesse cose. E va bene ancora che è la vita noiosa di questo assassino, della sua professione, tutto quello che vuoi. Ma, una volta che me l'hai detto, anche già due volte, perché mi devi ripetere dieci volte quella cosa, non provare nessuna emozione, non farti prendere da qui, basta, ok, l'ho capito. Cioè, non c'è bisogno che tu me lo ridica sempre. Giudizio molto negativo per The Killer, sebbene sia un film preparato benissimo. E questo è palese, anche nella fotografia, e ripeto, nella regia e quant'altro. Ok, archiviamo questa cosa e arriviamo a Comandante. Un bel film italiano di Edoardo De Angelis. Faccio una piccola digressione al riguardo. Io Edoardo De Angelis lo conosco, non siamo amici, non ci siamo mai frequentati, anche se siamo usciti assieme diverse volte quando eravamo dei ragazzi e quando lui viveva ancora a Caserta, perché poi quando è andato a Roma e poi in altri posti, insomma, non l'ho più visto e da allora lo vedo mediamente una volta ogni 4-5 anni e lo vedo anche in maniera abbastanza fugace, quindi assolutamente non siamo amici, anche se poi al telefono invece lo sento di tanto in tanto. Devo dire che a me è un regista che piace complessivamente, soprattutto per Indivisibili. Mi è piaciuto, penso che sia il suo momento l'apice della sua carriera per ora, ma è un regista giovane, anche se è già diretto molti film e anche una fiction, La vita bugiata degli adulti, se non erro, è il titolo che io ho visto e ho apprezzato, perché fondamentalmente i film di De Angelis li ho apprezzati tutti, tranne Mozzarella Stories, che non mi è piaciuto, ma è un esordio, gli esordi sono sempre complicati, sono sempre difficili. Per tutto il resto, devo dire che si mantiene sempre a un livello sufficiente, più che sufficiente è anche discreto, in alcuni casi buono o più che buono. Questo film penso che sia un buon film, un buon film per diverse ragioni. Innanzitutto è una storia vera, le storie vere sono sempre complicatissime da riportare, perché necessariamente al cinema, o anche se scrivi, non lo so, un libro, che sia però un romanzo ovviamente, non un saggio magari, oppure un libro storico, su un personaggio storico, un altro discorso deve essere più oggettivo possibile. però, diciamo, le storie vere si prestano a delle manipolazioni che possono portare a dei risultati sgradevoli da alcuni punti di vista, e non è questo il caso. Anche se, per come ho visto questo film e l'ho visto al cinema, bisogna vederlo al cinema perché merita, e praticamente penso che ci sia un bel po' di romanzato, però è un romanzato, come posso dire, lineare, attinente a ciò che è il personaggio. Questo Salvatore Todaro, comandante appunto militare del periodo della Seconda Guerra Mondiale, quindi siamo sotto, siamo in Italia sotto il regime fascista, e lui è un comandante di un sommergibile, e già questa è una cosa molto particolare, perché noi film del genere li abbiamo visti con gli americani, con gli statunitensi soprattutto, però sono film totalmente di avventura, anche se sono bellici, no? Però è un'avventura appunto da intrattenimento, cosa che non è questo film. Questo film ti intrattiene nel senso cinematografico, perché ovviamente ti fa piacere vedere quello che stai vedendo, ma non ti deve intrattenere perché ti deve far salire l'adrenalina o far pensare wow, che belle battaglie, sai, qualcosa del genere, no, assolutamente, questo non è un film del genere. E quindi in Italia è un unicum per ora, film sulla guerra ne sono stati fatti, ma sono stati fatti in altri modi, basti ricordare Monicelli e il periodo sempre delle guerre, no? Delle grandi guerre che l'Italia purtroppo ha combattuto in maniera sciagurata, le guerre sono sempre sciagurate, anche quando sono dalla parte del bene, diciamo così, del giusto. L'Italia non era neanche dalla parte del giusto nella Seconda Guerra Mondiale, quindi nel caso di cui stiamo parlando ora. Ebbene, questo è un film scritto molto bene, scritto dallo stesso De Angelis con Sandro Veronesi, uno scrittore ovviamente di cui conosciamo le qualità, interpretato bene, anzi benissimo, da Pierfrancesco Favino, ma bene nel complesso da tutti gli attori che sono stati scelti. Tra l'altro c'è una scelta molto curiosa, quella di molti napoletani che sono degli attori magari anche si potrebbe dire feticcio di De Angelis come Massimiliano Rossi, un attore che io ho trovato sempre come posso dire ben calato nelle parti che gli si affida e anche in questa però in questa curiosamente fa un Veneto, parla dialetto Veneto spesso con il capitano o meglio il comandante di questo sommergibile che è appunto per Francesco Favino anche lui bravissimo nel calarsi in questo dialetto oltre che nel recitare proprio in generale in maniera anche molto fisica questo è un film anche molto fisico anche se non c'è molta azione da parte sua ma lui si staglia sempre in queste inquadrature come se fosse un gigante anche se gigante non lo è poi tra l'altro è sorretto da un una sorta di scheletro uno scheletro che ovviamente non è uno scheletro vero e proprio però siccome ha avuto un incidente sempre in azione ha praticamente la schiena rovinata senza questo scheletro che lo supporta non riuscirebbe a fare praticamente nulla per un oltre un tot di minuti o di ore e quindi è anche un film di sofferenza perché si vede la sofferenza nella carne oltre la sofferenza nell'animo quando sono appunto in missione e ovviamente il film ricalca il fatto che stare in un sommercibile sotto sott'acqua per tantissimi giorni a volte non si non si emerge mai e tra l'altro è molto bella è molto bello il primo momento in cui loro emergono eppure se fa un freddo cane l'acqua schizza ovunque loro comunque vogliono stare su questo sommergibile come se stessero a prendere il sole anche se poi di sole non ce n'è perché appunto c'è bisogno di respirare il mondo respirare la vita perché all'interno sebbene ci sia un'atmosfera comunque diciamo gioviale anche in alcuni momenti infatti ci sono alcuni momenti tra l'altro molto divertenti veramente molto molto divertenti alcuni sono alcune sono delle trovate davvero molto molto carine da proprio da vedere che non voglio svelare perché davvero sono da da vedere quindi c'è un'atmosfera buona comunque c'è bisogno di riprendersi la vita la parte iniziale del film è molto struggente perché fa vedere un pochino le vite soprattutto di Salvatore Todaro Pierfrancesco Favino che è comunque una bella vita perché lui ha una bella casa una bella moglie una moglie molto intelligente come poi ha detto Edoardo che l'ha conosciuta attraverso dei racconti eccetera eccetera pare che fosse una donna molto molto in gamba intelligente e quant'altro difatti poi ha portato avanti una figlia senza un marito in un'epoca voglio dire comunque complicata anche oggi lo sarebbe attenzione però comunque quindi questo comandante va a scegliere comunque di combattere sapendo di fondamentalmente non tornare così come gli altri soldati perché sono dei soldati anche se sono specializzati sono dei sommergibilisti credo che si dica però sono dei soldati perché vanno a fare la guerra e quindi ci sono queste donne all'inizio del film quando sono ancora sulla terra firma che sono delle figure estruggenti perché sono tutte ovviamente tristi perché sanno che non rivedranno più sui loro compagni fratelli mariti eccetera eccetera e quindi quella parte è la parte più struggente probabilmente c'è quel velo di nebbia quel mare minaccioso livido nero e qua parlo della della fotografia una fotografia bellissima ferran paredes rubia tra l'altro un sodale di de angelis da diversi anni una fotografia davvero molto molto efficace che restituisce un mood un sentimento che è quello là diciamo di fondo del film perché tutti noi sappiamo che non questi ragazzi o alcuni di questi ragazzi non torneranno così come quest'uomo ritorno alla la recitazione molto buona io penso di aver sgamato un frangente in cui Massimiliano Dossi insomma si sia lasciato andare al dialetto napoletano o meglio all'accento napoletano però è impeccabile per tutto il tempo così come Pierfrancesco Favino e così come gli altri attori che sono bravi anche gli attori stranieri sono abbastanza abbastanza ben riusciti come come caratterizzazione dei personaggi ma poi come recitazione che dire di questo film bisogna secondo me vederlo anche perché c'è una bellissima cosa che ha detto sempre Edoardo c'è questa retorica sul nazionalismo che può sembrare stucchevole e forbiante che può far pensare sì al regime fascista del tempo ed è giusto perché storicamente era così c'era questa retorica del nazionalismo e quant'altro ma potrebbe far pensare ad un film anche nell'attualità un pochino diciamo filogovernativo per così dire ma filogovernativo non solo di questo governo ma anche di altri governi basti pensare a Minniti che contro i migranti perché mi viene da dire che siano state fatte cose contro i migranti perché gli accordi con la Libia sono contro i migranti perché sono degli accordi scellerati io di queste cose ne so per i libri di cui ho accennato già altre volte in questi video e conosco benissimo la situazione in Libia e anche la situazione ovviamente in mare quindi potrebbe sembrare una cosa quasi diciamo a favore tra virgolette ovviamente di questi ultimi venti anni del problema sempre tra molte virgolette che è l'immigrazione eccetera eccetera non che sia una questione molto complicata attenzione però definirlo problema è una cosa che non mi piace così come definirla emergenza bene ritornando al film può sembrare essere a fuori di queste cose ma non lo è perché Edoardo ha spiegato che lui ha voluto insistere su questa cosa per riappropriarsi di una parola una parola che è stata rubata ed è stata poi usata in maniera del tutto negativa sbagliata che è la parola italiani infatti Francesco Pavino dice molto spesso noi siamo italiani lo dice con un immenso orgoglio un orgoglio che sembra essere esagerato e probabilmente lo è anche però che ha un suo fondo perché lui dice noi salviamo le vite in mare non solo perché siamo marinai tra virgolette loro non sono marinai però come se lo fossero e quindi c'è la legge del male che dice di salvare gli uomini in mare che stanno ma non solo per quello lo dice perché noi siamo italiani e lo dice con un'enorme convinzione e con sentimento anche e dice fondamentalmente la verità non che tutti gli italiani siano sempre stati buoni anzi in quel periodo molti italiani non erano assolutamente buoni però la storia italiana è una storia di una nazione al centro di un mare come se fossimo quasi un'isola no? anche se non lo siamo e noi il mare lo abbiamo sempre vissuto e anche durante le battaglie non lo so magari ai tempi della Magna Grecia ai tempi dei Romani in seguito siamo stati definiti come posso dire altruisti tutto sommato nonostante appunto le guerre le tantissime guerre che abbiamo combattuto sempre purtroppo perché le guerre sono sempre tremende e quindi lui si vuole riappropriare il regista che è anche autore della sceneggiatura insieme a Beronesi si vuole riappropriare di questa parola di italiani che già in quel momento era stata rubata dal fascismo e poi in seguito sarà rubata da vari governi che faranno pensare a questa cosa come un popolo che respinge invece di accogliere mentre noi siamo un popolo che accoglie siamo il risultato di migliaia di mescolanze mescolanze che spesso queste mescolanze vengono dall'amore da un sentimento perché non è sempre solo un mescolarsi ai fini della riproduzione o del mero sesso no? ma è anche un mescolarsi attraverso un sentimento forte che è l'amore e quindi noi siamo questo risultato e nel film è palese il fatto che ci sia tutta l'Italia rappresentata e poi vengono rappresentati anche vabbè degli stranieri che sono vengono dal Belgio però che comunque poi si ritrovano insieme tranne in un'occasione si trovano anche abbastanza bene quindi questa cosa qua mi è piaciuta molto da parte sua da parte di Edoardo che l'abbia detto e me l'abbia fatto capire perché devo dire la verità anche io stavo un pochino tentennando su questa cosa perché non è così spudorata ed è anche il bello perché ovviamente uno quando vede un film o legge un libro deve capire delle cose non è che te le devono dire e spiegare come si dice col cucchiaino è una cosa che a me non piace quindi sono davvero molto molto contento complessivamente di questo film che dire andatelo a vedere godetevelo e alla prossima grazie ancora di tutto grazie a tutti